Salve amici di Advanced Italian, in questo video andremo a vedere la prova analisi delle strutture di comunicazione dell'esame CLS livello A2, certificazione di italiano come lingua stagnera, prova del giugno 2010. Così come la parte comprensione della lettura, anche l'analisi delle strutture di comunicazione dura 40 minuti ed è divisa in tre parti, quindi entrambe le parti dell'esame sono 40 minuti e tre prove a testa, quindi avete 40 minuti a disposizione per svolgerle tutte. In questo caso cominciamo con il primo esercizio dove dobbiamo mettere la giusta forma degli aggettivi che abbiamo tra parentesi, quindi l'aggettivo c'è già, dobbiamo farlo maschile e femminile, quindi insolito o insolita, oppure insolito o insoliti, quindi singolare e plurale. Leggendo si capisce, per capirlo dovete cercare il sostantivo, quindi la forma di insolito dipende dalla parola regalo, regalo insolito, regali insoliti. Se fosse situazione, la situazione femminile sarebbe situazione insolita, quindi dipende sempre dal sostantivo che avete davanti. Cominciamo. Cose strane, perché sono al plurale. Una cosa, due cose, things in inglese, quindi cose strane, plurale. Cosa strana, femminile singolare. Vuoi fare un regalo insolito e divertente, ma è difficile trovare l'idea giusta. Idea femminile singolare, idea giusta. Plurale sarebbe idee, con due e, idee giuste. Puoi avere idee regalo veramente originali. idee, idee, sono idee al plurale, idee originali se vai su internet. Se vuoi comprare un regalo per un amico allegro, amico allegro, amici allegri, quindi rimane così com'è, è stravagante che ha già tutto, sul web puoi trovare cose che non sono nei negozi tradizionali. negozio tradizionale, singolare, negozi tradizionali, plurale. Ci sono ad esempio, casse acustiche, attenzione, non acustice, acustiche, c, h, e, non scordatevi l'h, perché altrimenti sarebbe sbagliato. A forma di cani, cane, singolare, dog, dogs sarebbe cani, quindi cani al plurale. Piccoli cani, piccolo cane, piccoli cani. o le cravate dotate, le cravate al plurale, una cravatta dotata, le cravate dotate, qui con una t, di porta iPod. Puoi anche avere la possibilità di andare a cena con personaggi famosi, plurale, o di trovare una persona che va a fare la fila per te all'ufficio postale. L'ufficio postale, gli uffici postali. Quindi il postale rimane così com'è. Qui invece dobbiamo mettere i verbi nella giusta forma. Dovete capire se si tratta del passato o del presente. Quindi fate molta attenzione. Airole è un piccolo paese vicino al mare che ha circa 500 abitanti. E' presente, quindi la frase continuerà il presente. E' a circa 500 abitanti e molti di loro di lingua, colore e nazionalità diverse. Sono, loro sono. Un abitante su tre vive, viene dall'estero, scusate, ho letto vivere. Dall'estero, quindi un abitante su tre viene dall'estero. Siamo sempre al presente. A meno che non abbiamo qualche segnale che stiamo cambiando il tempo. Ad esempio ieri o domani capiamo che si tratta di passato o futuro. Però finché continua così rimarrà tutto al presente. Il barista è di Monaco di Baviera, il giardiniere di Londra, il parroco è originario dell'India. C'è una badante rumena, mentre un'altra peruviana sposarsi con il figlio dell'anziano che curare. Si è sposata. Attenzione, qui non è sposare, è sposarsi. Quindi è riflessivo. Non si dice io sposo, io, in questo caso io ho sposato quello, ma io mi sono sposato. E' un verbo riflessivo, quindi l'azione cade su di me. Siccome qui parliamo ovviamente del passato, perché diciamo la badante peruviana con il figlio dell'anziano. Si tratta di un'azione che è già successa nel passato, non è che si sposerà oggi o domani. Se fosse presente o futuro dovremmo avere un'indicazione del tipo domani, in quel caso diremmo si sposerà domani con il figlio dell'anziano. Mentre se fosse oggi, anche qui diremmo si sposa oggi o tra poco, eccetera. Quindi dovrebbe darci qualche segnale. Non ce lo dà, di conseguenza in questo caso usiamo il passato prossimo. Quindi si è sposata con il figlio dell'anziano che cura l'anziano e lei lo cura oggi. È una badante rumena, lavora lì e cura l'anziano. Quindi si è sposata, tempo fa, con il figlio dell'anziano che cura oggi, perché continua a fare questo lavoro. Se fosse, anche in questo caso, se si trattasse di passato avremmo che curare per molti anni, che ha curato per molti anni. Quindi non lo fa più, ma siccome non c'è questo indizio, si deduce che continua a fare questo lavoro. Quindi cura anche oggi. Per primi arrivare due artisti olandesi che comprare una bella casa di pietra. Per primi sono arrivati, in passato, quindi passato prossimo, due artisti olandesi che hanno comprato una bella casa in pietra. Quindi tutte azioni che sono successe e si sono concluse in passato. Quindi non lo devono più comprare la casa e non devono più arrivare, sono già arrivati. Se fosse arrivava, probabilmente si riferirebbe ad un'altra situazione, ossia fa andata e ritorno in continuazione. Quindi arrivava dall'Olanda, andava via, ritornava. È una cosa, un viaggio che faceva in continuazione, faceva il pendolare. Mentre in questo caso lui è tornato e sta lì. Quindi l'azione si è conclusa, non deve più venire. E per questo motivo diciamo che sono arrivati e hanno comprato, perché entrambi sono al plurale. Parliamo di due artisti, non di uno. Dopo di loro molti altri artisti e turisti hanno deciso di comprare una delle tante case abbandonate. Anche qui siamo al plurale. E passato prossimo, perché dopo di loro, ma parliamo sempre del passato. Adesso si trovano già lì, perché l'abbiamo detto che un abitante su tre viene dall'estero. Quindi significa che questa popolazione si è composta molti anni fa. Non è che si compone oggi, quindi non possiamo dire che decidono di comprare. L'hanno già comprata, se no non avremmo questa statistica. Uno su tre sono stranieri. È un'azione che si è svolta in passato. Gli abitanti ci sono già, sono venuti precedentemente. Ma non è che devono venire oggi o domani. Hanno deciso quindi di comprare una delle case abbandonate. Tornare ad abitare anche molti italiani. Sono tornati ad abitare ad Airole anche molti italiani. Così il villaggio è diventato un villaggio a colori. Quindi tutto è il passato prossimo. Azioni che si sono concluse in passato e sono finite lì. Se fosse un'azione che continua in passato, quindi quando ero piccolo mi svegliavo alle 8. Adesso mi sveglio alle 6. Perché non dico mi sono svegliato alle 8? Se dico mi sono svegliato alle 8 significa che l'ho fatto una volta sola. Se dico mi svegliavo alle 8 significa che quando ero bambino mi svegliavo tutti i giorni alle 8. Quindi è un'azione che si ripeteva in passato. Qui non è il caso, non si ripetono le azioni in passato e quindi di conseguenza non usiamo l'imperfetto, quindi tornava, decideva, diventava, ma usiamo il passato prossimo. Quindi sono tornati e nel caso dell'ultimo verbo è diventato perché parliamo del villaggio, quindi terzo singolare. L'ultimo esercizio è questo qui. Dobbiamo mettere una parola, però è facile perché possiamo scegliere tra le parole che abbiamo già qui sotto. Quindi cominciate a leggere e poi guardate le risposte qui. Se siete sicuri della risposta mettete la crocetta. Se non siete sicuri provate ad andare per esclusione, quindi provate a capire, ad esempio, il numero 0 ce l'abbiamo già, perché non è vero B e C. Se riuscite ad escludere B e C sarà più facile dire che la A è quella giusta. Non potete ovviamente, non ha senso preoccuparsi in questi casi perché non si risponde solo se sapete la risposta esatta. Potete anche rispondere non sapendola, provando a ragionare perché le altre alternative sono sbagliate. Quindi è bello partire per un viaggio, ma prima bisogna fare la valigia. Che cosa è meglio con sé? Indossare con sé, portare con sé, possedere con sé. Qui bisogna leggerlo tutto. Se fosse cosa è meglio senza con sé, allora diremmo indossare. Cos'è meglio indossare? Quindi quale vestito mettersi. Però siccome c'è con sé, diremmo portare con sé. Take with you. Portare con sé. Indossare con sé no. Indossare non si usa con sé, si usa semplicemente da solo. Quindi cosa indosso? Possedere invece significa i beni che avete a disposizione. Ad esempio io possiedo una casa, una macchina, tutte le cose che sono a vostra disposizione. Cioè che sono una vostra proprietà. In questo caso si usa possedere. Quindi solo le cose che appartengono a voi sono le cose che possedete. Quindi abbiamo detto una B. Quando cominci a fare i bagagli vuoi metterci tutti i vestiti che hai nel tuo armadio, scaffale, cassetto. Armadio. L'armadio è il posto dove si mettono i vestiti. Il cassetto è un... Come ve lo posso spiegare? Solitamente avete il comodino accanto al vostro letto e nel comodino c'è un piccolo cassetto. In quel cassetto potete mettere piccole cose. Non potete mettere vestiti. Scaffale solitamente si usa per mettere i libri. Una sorta di libreria. Quindi anche lì non si mettono i vestiti perché sono aperti e possono accumulare molta polvere. Quindi non ha senso metterli lì. In generale si mettono in un armadio. Poi c'è che li mette dove gli pare ovviamente. Potete metterli anche in frigorifero. Però non avrebbe senso. Ti chiedi e se poi mi serve? Quindi quando fai i bagagli non sei sicuro perché dici e se poi mi serve? Non sai cosa mettere nella valigia. Ma se non vuoi viaggiare con 30-40 kg di bagaglio è meglio seguire alcuni perché è bene viaggiare. Cosa dobbiamo seguire? Dobbiamo seguire i consigli, i pareri o avvisi. Consigli. Parere significa un'opinione riguardo a qualcosa. Però è qualcosa di molto vago. Può essere anche qualcosa che tu non conosci. Ad esempio chiedi a qualcuno che te ne pare? Cosa pensi? In questo caso io non è che mi aspetto spiegazioni da professore da te. Non è che voglio o mi aspetto che tu mi dica tutto quello che sai in materia. Tu puoi anche non sapere niente. Però puoi dirmi un parere. Ad esempio se mi dici che te ne pare? Ho comprato una nuova televisione. Io non sono un tecnico però ti dico sembra carino, sembra la qualità in cui si vede o i colori sono molto buoni. Mi sembra ottimo. Questo è un parere. Mi sembra. Ho l'impressione. Quindi non sono sicuro ma sto dando un'opinione. Un avviso è un'altra cosa. L'avviso sarebbe anche qualcosa che ti vieta di fare una determinata azione. Ad esempio vi avviso che questa cosa non è consentita. Non potete fare questa cosa. Non potete salire sul treno quando il treno è in movimento. Questo è un avviso. Ma può anche essere un annuncio l'avviso. Ad esempio il treno. L'avviso è questo. Il treno non viene più sul binario 1 ma sul binario 2. Quindi sono informazioni più formali queste. Mentre il consiglio in questo caso è quello che ha più senso perché ti do un consiglio su cosa mettere nel bagaglio. In questo caso a te non serve il parere perché il parere può essere sbagliato. Potrei comunque portarti a 30-40 kg. Perché è un'opinione. Mentre il consiglio è qualcosa di più preciso. Quindi andando anche per l'esclusione direste tre consiglio. Vediamo la numero 4. Perché è bene viaggiare freschi, leggeri, delicati. Leggeri. Leggeri significa pesare poco. Abbiamo parlato 30-40 kg che sono troppi. Quindi pesanti. E vogliamo qualcosa di più leggero. Il contrario di pesante è leggero. Quindi la 4 è leggero. Fresco si usa per i prodotti. Frutta, verdura, eccetera. Delicato. Anche questo è più riferito a piatti delicati. Quindi gourmet, ad esempio. Ma può anche essere usato per una persona. All'esempio le persone che dicono Ah no, non esco perché fa troppo freddo E rischio di prendermi il raffreddore Oppure, che ne so Fuori fa freddo E il caffè non è abbastanza caldo Io lo voglio più caldo Se no mi raffreddo Quindi sono persone delicate Persone che si ammalano facilmente Quindi devono stare molto attenti Vediamo la numero 5 Per prima cosa devi comprare una valigia piccola Perché se la valigia è molto Al suo interno Metti anche quello che non è necessario Allora Qui si capisce anche dal fatto che Valigia piccola Perché se la valigia è molto grande Quindi il contrario Al suo interno Metti anche quello che non è necessario Quindi Per selezionare i vestiti Ti consigliano di prendere una valigia piccola Così sei costretto a mettere poche cose Perché se la prendi grande Puoi comunque metterci 30 kg Perché c'è spazio E dici dai Comunque metto anche questa Anche questa Quindi il contrario di piccola È grande La A Larga Ha più a che vedere con le dimensioni La larghezza Quindi parliamo di altezza Larghezza Non ha a che vedere con Piccolo e grande Alta Diciamo Io sono alto Un metro e 85 Ad esempio Parliamo di Dimensioni Di altezze Ma per la valigia In questo caso diciamo Piccolo e grande Non stiamo parlando di dimensioni Quindi non ci serve La lunghezza Larghezza Seconda cosa Se il viaggio non dura molto Porta solo il bagaglio a mano Quindi il bagaglio a mano Sarebbe il bagaglio Che portate dentro Con voi Quindi non lo lasciate nel check-in Se poi compri molti souvenir Puoi sempre acquistare una seconda Siamo nella numero 6 Una seconda custodia Busta o borsa Attenzione qui Se diciamo busta La busta è quella In cui si mette La spesa Quindi Non ha senso Comprarsi una busta Una custodia Sarebbe più o meno Safe In inglese Una sorta di cassaforte Si intende anche quella Ma può anche essere Una di quelle Avete presente Quelle valigette Che usano Gli uomini d'affare I businessmen Che si apre ai lati È una sorta di Valigetta Rettangolare Dove si mettono anche i denari In quel caso Si dice anche Custodia Ma In questo caso Se la valigia Non è abbastanza Grande Potete comprare Una borsa La borsa Che ad esempio Usano le donne Ma anche quella Che si tiene alle spalle Quindi la 6 Dovrebbe essere la C Infine È meglio portare Con sé vestiti Vecchi E Piacevoli Comodi O utili Un vestito Deve essere Comodo Cosa significa Comodo Diciamo Ovviamente Che Vestirsi Sportivo È più comodo State più A vostro agio Mentre mettendo Giacca e cravatta Siete un po' Scomodi Può fare caldo Non potete Non potete muovervi Non potete muovervi Con abbastanza Dimestichezza Eccetera Quindi non siete A vostro agio Il vestito Deve essere comodo Piacevole Si parla della giornata Di un'attività Di un'esperienza Ma non di un vestito E Utili Utile Si usa per gli strumenti Per gli apparecchi Eccetera Ad esempio Questo strumento È utile Per fare la pasta Che vi Consente Vi facilita Il lavoro Quel qualcosa Quell'oggetto Che vi aiuta Per facilitare Un lavoro È utile La calcolatrice È utile Per fare calcoli Se no Ci impiegherei Molto più tempo Però non si usa Per i vestiti Quindi Diremmo che La 7 È B In questo caso Mentre La 8 Abbiamo detto Infine È meglio Portare con sé Vestiti vecchi e comodi È solo un abito Per le occasioni speciali Un abito elegante Raro Prezioso L'abito è elegante Se vi mettete Giacca e cravatta Siete eleganti È un abito elegante Raro Non si usa Per gli abiti Si usa per gli oggetti Un diamante È raro Un orologio Eccetera E anche prezioso Si usa Sempre per orologi Per diamanti Che significa Costa tanto Ma L'abito È elegante Semplicemente Questo è il foglio Delle soluzioni Abbiamo tutte le soluzioni Qui Spero che Il video Sia stato chiaro Vi ricordo che All'interno del canale Potete trovare anche Altri video Riguardo Quest'esame Nella playlist CLSA2 Analisi delle strutture Di comunicazione Vi lascio anche Il link in descrizione Potete cliccarlo E vedrete anche Altre prove Che ho risolto Degli anni passati Vi ringrazio Per la vostra attenzione Ci risentiamo Nei prossimi video Ciao Ciao